24 settembre 1961. Viene organizzata la prima marcia Perugia-Assisi su iniziativa del pacifista Aldo Capitini per testimoniare l'amore per la pace e per la fratellanza fra i popoli. Sventola per la prima volta la bandiera della pace, simbolo dell'opposizione non violenta a tutte le guerre. Secondo Capitini il pacifismo e la non violenza non sono inerte e passiva accettazione dei mali esistenti ma sono attivi e in lotta con un proprio metodo. Da allora la marcia per la pace si svolge ogni due anni fra la fine di settembre e l'inizio di ottobre e si snoda per un percorso di circa 24 chilometri.